Dal futuro alla seconda guerra mondiale. Quest'anno Call of Duty torna indietro nel tempo. Durante la Gamescom, Activision ha fatto provare con mano la nuova modalità multiplayer war. Si tratta di una nuova concezione di partite multigiocatore che chiederà ad una squadra di raggiungere diversi obiettivi posizionati sulla mappa, conquistandoli per poter passare a quello successivo. Call of Duty World War 2 uscirà il 3 novembre su PC, Playstation 4 e Xbox One. Capture the flag. Take the enemy flag by any means necessary. Get it to the CP!